Sì, diciamo che ho concluso la scorsa consigliatura all'opposizione e quindi riparto da dove ero rimasta. Nell'interesse dei cittadini ci siamo anche noi, sono stata sostenuta da tre liste civiche che rappresentano oltre 900 cittadini, quindi la nostra voce in consiglio ci sarà. Sarà in maniera costruttiva dove ci sarà da costruire e da supportare l'amministrazione, ma anche come pungolo verso un'amministrazione a cui porteremo le nostre stanze e le problematiche dei cittadini.